Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze Prima Corenzi capitolo 10 versetto 13 Non oltre le forze Spesso ci lamentiamo dei nostri problemi Ci sembrano così grandi che non possiamo non sospirare perché non sappiamo come fare Ci sembra di soccombere, di essere schiacciati I problemi, le preoccupazioni, le ansietà fanno parte della vita di ogni individuo Ma il Signore che ci conosce perfettamente sa qual è il peso che noi possiamo sopportare La parola di Dio ci ricorda che il gioco di Cristo, il suo peso, è quello che dobbiamo portare E' dolce e leggero, soprattutto perché egli prende il nostro e ci aiuta a portarlo Quando il carico è troppo pesante e stiamo per soccombere Guardiamo al Signore e scopriremo che Lui è vicino a noi Ha già preparato le sue vie d'uscita dalla tentazione, dalle difficoltà Ed è pronto ad attuare i suoi piani per soccorrerci Crediamo ed affidiamoci al Signore ed Egli per certo per la sua misericordia Concederà pace e sicurezza che invaderanno il nostro cuore Allora potremmo dire grazie Gesù perché tu sei con noi E non ci lasci ed il tuo aiuto è la nostra forza per superare ogni difficoltà Allora potremmo dire grazie a tutti Allora potremmo dire grazie a tutti